ecco Laura col suo nuovo regalo di compleanno che è arrivato un po' tardi un po' tardi il mio compleanno era forse un mese e qualche giorno fa fai vedere a tutti e per chi non lo sapesse questa è la riproduzione della metro di Tokyo e quando ci mettono la monetina che cosa fa? fa la musichetta diversa per ogni fermata della metropolitana di quale linea? mia manotte dai senti non l'ho messa però la monetina lo sono schiacciato perché ovviamente loro sono sgamati ogni fermata ha una musichetta diversa quando si aprono le porte questa è un po' bruttina guarda la cambiamo eh balla balla e dietro per recuperare i soldi apri la porticina e mi è caduta la monetina è bellissimo questo regalo mi piace e chi te l'ha regalato? sì mio amore e vabbè chiudiamo saluta a tutti notte notte no 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 Grazie.